Qual è la manifestazione di Calciando in Rete? È una manifestazione sportiva prioritariamente di Calcio a 5. Sono ragazzi, sono praticamente dei tornei di Calcio a 5 dove associazioni, parrocchie di tutta la città coinvolgendo nella maggior parte degli anni tutte e otto le circoscrizioni fanno partite di andate e ritorno e quindi questi ragazzi si spostano e a volte riescono ad andare in posti dove non sono mai stati. Inoltre, oltre al Calcio a 5, ci sono altre manifestazioni sportive come per esempio facciamo pallavolo, piuttosto che il tennis da tavolo, piuttosto che il gioco delle bocce. Quindi, ripeto, siamo alla quattordicesima edizione e i centri che coordino, oltre al mio, c'è il laboratorio Zen Insieme e l'associazione Santa Chiara.